E' stato trasportato in carcere a Gazzi Domenico Leonardi, il 39enne che la sera del 24 maggio scorso a Messina travolse con la sua smart lo scooter guidato dalla 23enne Miriam Laspada. La ragazza è deceduta il 3 giugno scorso al policlinico di Messina dopo 10 giorni di agonia a causa delle conseguenze del tragico incidente. Leonardi è stato arrestato dagli uomini della sezione infortunistica della Polizia Municipale che lo hanno raggiunto nella sua abitazione di Bisconte, dove si trovava già agli arresti domiciliari. La sua posizione si è ovviamente aggravata. Per Leonardi infatti il sostituto procuratore Alessandro Liprino ha chiesto ed ottenuto il carcere per l'accusa di omicidio stradale. A firmare il provvedimento in cui gli viene contestato il reato di omicidio stradale pluriaggravato è stata il GIP Ornella Pastore. Un aggravamento della misura, visto che inizialmente a Leonardi erano stati confermati gli arresti domiciliari, ai quali il 39enne era già ristretto per altre cause. Le indagini della Polizia Municipale, grazie a testimonianze dirette e dalle immagini di una telecamera di video sorveglianza, hanno consentito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le gravi responsabilità di Leonardi. L'uomo infatti, oltre ad essere evaso quella sera dai domiciliari dopo un litigio con i genitori, aveva anche la patente di guida revocata per via di guai giudiziari precedenti. Quella sera non si sarebbe dovuto trovare lì. Adesso Miriam non c'è più, mentre l'uomo dovrà essere messo di fronte al suo destino, pagare una pena congrua per una vita spezzata troppo presto.